E' mattina e fuori sta nevicando. James si alza e si veste velocemente per uscire. Usci velocemente e pensò di fare un pupazzo di neve. Fece prima il corpo con una palla grossa e con quella più piccola la testa. Poi gli mise un cappello e una sciarpa, con un mandarino fece il naso e con due pezzi di carbone gli occhi. Infine fece le braccia e la bocca. Quando si fece sera James dovette rientrare. Non riuscendo a dormire guardava il pupazzo dalla finestra. Decise di uscire e vide che il pupazzo prese vita, quindi si presentò al pupazzo. Fece entrare il pupazzo a vedere la casa, ma dopo un po' vide che faceva troppo caldo e si stava sciogliendo. Andarono in giardino e per magia presero il volo dal giardino. Quando scesero erano ad una festa per pupazzi di neve, dove c'era anche Babbo Natale con le renne. Egli regalò una sciarpa con pupazzi di neve. Alla fine tornarono a casa. James salutò il suo amico e andò a dormire. Quando si svegliò il pupazzo non c'era. Rimanevano solo la sciarpa e il cappello. Pensava fosse un sogno quella sera, ma aveva la sciarpa con i pupazzi in tasca.